Cambiano gli scenari del soccorso degli immigrati nel mar Mediterraneo in vista del passaggio dall'operazione tutta italiana Mare Nostrum a quella europea Triton. Se ne è parlato in Commissione Diritti Umani del Senato durante l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina, De Giorgi. La seguita per noi, Marianna Borea. L'ammiraglio De Giorgi traccia un bilancio dell'operazione Mare Nostrum che dal 31 dicembre cesserà le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Più di 156 mila ai naufraghi assistiti finora. Mare Nostrum sarà sostituita da Triton che non avrà come primo obiettivo, dice il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il salvataggio delle vite umane ma solo il pattugliamento. Il Ministro Alfano e il Ministro della Difesa si erano espressi in maniera molto chiara a favore di organizzare un luogo e un momento di sintesi operativa tra tutte queste attività che ci sono in mare per efficientare, contenere i costi e evitare che ci siano spiaggiamenti sulle coste italiane dirette senza essere intercettati prima. Il ridimensionamento dell'area di intervento preoccupa la Commissione. Per il Presidente Manconi troppi moriranno in quel tratto di mare che per mere ragioni di cassa si lascia incustodito. Con l'operazione Mare Nostrum l'Italia ha svolto un importantissimo ruolo di stabilizzazione di un'area del mondo, quel mare mediterraneo, che costituisce il ponte tra l'Europa e l'Africa. Il Movimento 5 Stelle definisce agghiacciante la decisione di chiudere Mare Nostrum. Triton assicura soltanto l'avvistamento nel salvataggio delle persone, per cui già questo è una doccia fredda che cade su tutte le persone che hanno intenzione di salvaguardare in primis la vita umana. Un altro rischio, conclude De Giorgio, è il mancato controllo sanitario assente sui mercantili che se contattati dovranno imbarcare i naufraghi.